La pianista tastierista direttamente dal Los Angeles è uno dei pilastri della band di John Fogarty dei Creedence Clearwater Revival per punti irrefrenabili dei tasti ha suonato con artisti di altissimo livello da Al Green a Jackson Browning dai Neville Brothers a Dr. John da Bruce Springsteen a Leon Russell di recente è uscito un suo giro Mojo e V abbraccia Rock and Roll di Sputurato per poi contaminarsi con il sound di New Orleans e il solo di pura marca di Trump Amici dello Stoos Caffè sul palco Bob Malone Buono 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti